Ragazzi vi aspetto domani e non mancate e adesso sigla Forza viola ragazzi eccoci qua Mr.Biola vi dà il benvenuto a questo nuovo video video che è dedicato alla vigilia di campionato che ci vedrà protagonisti domani alla scala di Milano e come avete visto dalla intro ragazzi non mancate domani vi aspetto sul mio canale youtube e sarò in diretta per la cronaca live di Milan Fiorentina Altra grande novità del mio canale Mr.Viola qui su youtube beh come avete visto la intro è cambiata ma soprattutto la sigla è cambiata e fatemi ringraziare per questa sigla il compositore tifosissimo viola Stefano in arte Akash lo trovate su instagram rapper vi lascio il link in descrizione visitate la pagina trovate tantissimi pezzi composti da lui nell'attesa che esca il suo nuovo disco e ragazzi se per caso avete bisogno di musiche personalizzate canzoni sigle beh non esitate a contattarlo link in descrizione grazie mille perché questo da oggi è la canzone ufficiale del mio canale viola come sempre poi vi invito a iscrivervi al mio canale youtube Mr.Viola attivate la campanella per non perdere i contenuti cercatemi in tutti gli altri miei social instagram facebook e vi lascio sempre in descrizione i miei due link per i miei due shop online trovate abbigliamento come questo con il mio logo e tantissime altre idee regalo sia su spreadsheet che su tspring e su tspring c'è anche un codice promozione sconto di un ulteriore 15% ragazzi bando alle cianci entriamo nel clou del video Milan Fiorentina beh sicuramente forse la squadra peggiore che la Fiorentina poteva incontrare nel momento attuale viola perché è la squadra diciamo che in questo momento è in vetta alle classifiche vince gioca molto bene viene dalla vittoria contro il Napoli per 3 a 1 sarà orfana di Ibrahimović ma questo purtroppo non è un attenuante e non ci può far star tranquilli da dove viene la Fiorentina? beh la Fiorentina viene da una lunghissima partita in Coppa Italia a 120 minuti di sofferenza contro l'Udinese l'ha vinta la Fiorentina 1 a 0 come sapete gol di Montiel che ha trovato questo gol dal ha tirato fuori questo gol dal cilindro magico grande intuizione di Cesare Prandelli però indubbiamente ci lascia ancora tante lacune questa formazione viola o meglio il momento viola perché comunque se la difesa ha retto con qualche difficoltà il centrocampo ancora con Castrovilli stenta un po' a esplodere grande partita comunque di Amrabat e là davanti ragazzi il problema l'attacco è essenziale perché altra prestazione negativa di Vlaovic altra prestazione negativa di Kwame infatti come avete visto io ho scelto nella mia copertina il tridente di attacco che secondo me deve giocare contro il Milan cioè Ribéry che l'anno scorso fece una grandissima partita proprio contro il Milan Kayekon che secondo me ha avuto modo di lavorare e recuperare dal contagio da Covid quindi può essere veramente protagonista in questa viola e là davanti ragazzi Cutrone perché comunque l'ho detto nel mio video post partita dell'Udinese Cutrone ha fatto molto meglio in 37 minuti lui che Vlaovic in 90 quindi detto questo penso di aver chiuso il riassunto anche perché sul gol c'è lo zampino di Cutrone quello che deve fare un attaccante quindi mi aspetto domani veramente una formazione che si presenti con questo tridente là davanti un tridente fatto di classe, di magia e di finalizzazione un centrocampo che credo che giocherà a buona avventura anche perché insomma mi sembra assurdo non far giocare gli ex sapete che gli ex danno sempre qualcosa in più quindi mi aspetto sia Cutrone che buona avventura in campo beh poi Kodiovati da Amrabat che continua il suo periodo ottimo di forma è questo Castrovilli numero 10 che deve secondo me tornare ad essere quel castro ammirato l'anno scorso una difesa che credo che giocherà con Biraghi io mi auguro che sulla destra si metterà Lirola centrali Pezzella Milenkovic vorrei vedere un 4-3-3 o comunque un 4-3-2-1 che secondo me è la formazione migliore che la Fiorentina può mettere in campo attualmente contro un Milan che sinceramente è forte ragazzi cioè è inutile girarci tanto intorno è la squadra più in forma del campionato sta meritando la posizione di classifica che ha più o le ha dato un'identità a questa squadra non è sicuramente il Milan dell'anno scorso quando abbiamo affrontato e abbiamo vinto 3-1 proprio contro il Milan in casa loro quindi è una partita completamente diversa però la Fiorentina potrebbe trovare degli stimoli giocando contro questa grande formazione ditemi voi anche quello che pensate vorrei sapere la vostra formazione che domani dovrebbe giocare in campo oggi parlerà Cesare Prandelli che sicuramente ha allentato un po' la pressione anche su di lui dopo il passaggio del turno in Coppa Italia speriamo che nonostante la prestazione sia un po' deficitaria ancora della Viola ma la vittoria possa aver dato un pochino più di fiducia a questa squadra un pochino più di grinta abbiamo visto comunque una Fiorentina più grintosa più presente sul campo anche perché comunque ha retto 120 minuti tra l'altro devo dire che secondo me c'è anche un pochino più di senso di squadra perché c'è da sottolineare la prestazione di Eiseric che è praticamente due anni che ha le valigie in mano però nonostante questo ha fatto una grande partita contro l'Udinese quindi credo che sia Vlaovic che Quamè domani si siederanno in panchina non lo so cosa stia succedendo a questi ragazzi sono all'assù Quamè e lontano parente visto da Genoa proprio anche sotto la gestione di Prandelli Vlaovic io continuo a dire il ragazzo ha delle potenzialità ma ha troppa pressione addosso anche noi gliela stiamo mettendo ma perché ci mancano i gol degli attaccanti quindi io penso che non so se la Fiorentina interverrà o meno a gennaio avete visto anche il mio video dedicato alla possibilità di Caicedo in viola ma sullo sfondo c'è comunque l'idea Balotelli che non entusiasma e non entusiasma neanche il sottoscritto anche se reputo comunque Balotelli un grande attaccante con una testa un po' troppo forse matta mettiamola così e l'altro nome è Pionte che anche se onestamente adesso andare a puntare su Pionte che è un panchinaro all'Elta Berlino parliamone ragazzi sullo sfondo sempre Pedro non si è capito bene cosa farà il Flamengo o meno parlando di Milan un piccolo apparente sul Rebic ieri è uscito un indiscrezione dalla Germania che sembra che Rebic sia stato pagato 5 milioni di euro quindi alla Fiorentina arriveranno nelle casse 2,5 milioni di euro ora sicuramente è una cosa legalissima hanno fatto tutto in maniera perfetta perché hanno inserito delle contropartite tecniche quindi hanno abbassato il valore del calciatore e quello che volete però noi fiorentini e la Fiorentina si sente un po' forse imbrogliata fregata da questa trattativa perché sapete che Rebic aveva una votazione intorno ai 50 milioni di euro noi ce ne aspettavamo almeno 25 invece ne arriva praticamente 2,5 domani dobbiamo giocare anche per questo dobbiamo giocare anche per questo bisogna avere una voglia di rivalsa ma soprattutto dobbiamo andare in campo con una convinzione con una mentalità da squadra da collettivo domani voglio vedere una Fiorentina arrembante una Fiorentina che non si scoraggia una Fiorentina che rincorre i palloni voglio vedere una Fiorentina grintosa l'ha detto Prandelli già in conferenza stampa pre-udinese non aspettiamoci il calcio champagne io attualmente non voglio vedere il calcio champagne voglio vedere però una Fiorentina che ci mette cuore e anima e che va in campo suda fino all'ultimo minuto poi si esce sconfitta l'importante è uscire a testa alta e poi se invece secondo me si mette la grinta e i giocatori cominciano a girare credo che questa formazione possa ancora veramente dire qualcosa e migliorare il suo score e anche il suo punteggio in campionato quindi ragazzi io su Milan Fiorentina vedo il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto ok mettiamola così perché da una parte se lo vedo mezzo vuoto dico porca miseria proprio il Milan che è nel miglior momento di forma come si farà si perderà oddio che succede dall'altra parte mezzo pieno perché? perché posso dire che dopo la vittoria e il passaggio di turno con l'Udinese affrontiamo una grande squadra che deve regalare stimoli come dicono molti allenatori a volte è più facile affrontare le grandi squadre che le piccole squadre perché la concentrazione aumenta tantissimo ecco io penso che domani sia una grande squadra quella che la Fiorentina affronterà e quindi l'attenzione e soprattutto la voglia di mettere in campo della qualità ci sia e ce ne sarà tanta quindi ragazzi io vi rinnovo l'appuntamento per domani quindi iscrivetevi attivate la campanella vi aspetto domani in diretta sul mio canale YouTube Mister Viola non mancate ciao ciao